Oggi con grande gioia che abbiamo ospitato anche se per solo poche ore stamattina questi nostri amici di Acicatene hanno visto le cose più salienti che noi abbiamo in città e quindi il museo archeologico, la chiesa madre, la piazzetta di Santo Rocco, la nostra bellissima piazza e piazza Dante. Ahimè visto che sono arrivati un po' in ritardo non siamo riusciti a fare l'escursione al parco archeologico ma ci siamo ripromessi che loro ritorneranno quanto prima molto probabilmente anche per Natale se noi faremo anche quest'anno il presepe al parco archeologico per andare a vedere ancora una volta Granmichele essere i nostri ospiti e vedere un'altra realtà che noi abbiamo, forse una delle più importanti che è il parco archeologico di Occhiolà. E che dire, sicuramente con l'amico Ascentio ci conosciamo da molti anni e sono felice che lui abbia accettato questo mio invito di gemellaggio. Oggi 11 settembre appunto come diceva lui sono arrivati loro qui a Granmichele e noi quanto prima sicuramente nel mese di ottobre faremo visita al comune di Acicatena per cominciare a intrecciare questa nostra collaborazione non solo tra me e il sindaco di Acicatena ma soprattutto tra i cittadini di Acicatena e i cittadini di Granmichele e come diceva l'amico Ascentio sia con i giovani della terza età ma anche con tutta la comunità di ambre due le città.